Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati a giocare con Among Us signori Speriamo che questa volta riusciamo a fare l'impostore almeno, dico facciamo, uccidiamo un po' di persone e cerchiamo di farle qualcosa di diverso Detto questo signori, prima di partire col video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date al canale e alle serie che porto Vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto su Instagram, dove mi trovate come Maullo941 Soprattutto perché vi informo con le stories per quando faccio le live su questo e sull'altra realtàforma Detto questo non perdiamo tempo e partiamo con il video signori Ok, c'è una stanza che si chiama Mario, ci dobbiamo entrare per forza signori, penso siano italiani, vediamo, vediamo, vediamo se sono italiani La stanza che si chiama Mario, che però non carica un Kaiser, vediamo se riusciamo a far caricare la stanza Ok, ci sono io minite da solo, abbandonato in un luogo scuro, che cazzo lo sta succedendo? Cosa cazzo lo è successo? Ciao, ciao a tutti, a tutti Non scrive nemmeno niente, perfetto così, va bene Abbandoniamo la stanza di Mario, è stato un piacere, grazie Mario per aver dato questa breve italianità a questo video Ehm, partecipiamo, aggiorna, vediamo se becchiamo una stanza in cui si può pensare che siano italiani Ehm, aggiorna, dai così, dai così Imposter, swish, juice, non c'è una stanza di italiani Dai, skype, yo mamma, dinda, ak, babi banni Vediamo, dai, la troviamo una stanza di italiani Come è passato questo primo video a cercare una stanza con cui possibilmente italiani See you, non c'è una stanza segnali, vabbè, prendiamo la prima a caso, dai La prima a caso, Lulu, mi piace il no, Lulu ci sono in the world, dai, andiamo un altro, dai L'ultimo aggiornamento, i single, i single, i single mi piace, dai Andiamo nella stanza dei single, a posto Siamo di color marrone, ah, il giallo già ce l'hanno fregato Vediamo se me lo danno I, want, want, come cazzo sto scrivendo, cazzo, allora sto scrivendo Want, yellow, color, le ase Facciamoli i tocati, facciamoli i tocati Please, vediamo se mi danno il colore giallo Vediamo se mi danno il colore giallo, signori Oh sì, me l'hanno cambiato Possiamo prenderci il colore giallo Via, 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 veloce, veloce, veloce Grande, siamo diventati gialli Perfetto Siamo riusciti, l'abbiamo chiesto educatamente e ci hanno dato il colore giallo Siamo tornati ad essere capitano ventoso, signori Vediamo se riusciamo a partire Siamo 10 su 10 A quanto del blu coro Tutti si sono messi a chiedere i colori, signori Il verde ha chiesto il colore blu Va bene Start, yes, stiamo a partire Dai così, dai così, signori Dai così, siamo noi l'impostore? Non mi fai fare l'impostore? Niente, non siamo noi l'impostore Ci sono due con il crestone e uno col formaggio in testa Va bene Il nostro obiettivo è riuscire a vincere anche questa partita Dai, dai che ce la possiamo fare Dai che ce la possiamo fare Subito, subito il download delle informazioni Certo con un solo impostore è difficile Il primo è già abbandonato Uno ha già abbandonato la partita Bella così Bella così Via, 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 via Veloce, 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 veloce Però c'è ancora cacciara, ancora c'è, signori Il rosso sta facendo le mie stesse task Va bene Quindi il rosso lo teniamo Il rosso è buono Il rosso è buono perché sta facendo le nostre stesse task Ricordiamocelo Quindi il rosso è buono Ok, questa l'abbiamo completata Poi Admin, abbiamo un'altra cosa di admin Penso sia questa Dai così Chiappalo, ok La carta di credito Va bene Ora mai, signori La carta di credito è un lontano ricordo No, l'arancione è morto Ai, 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 ai Baca È morto Baca Adolla ha abbandonato No, Baca ha abbandonato E quindi chi è morto? Adolla No, Baca, where Insieme a domandare parole strane Where, where Where is Where Not me Perché lui già dice not me? Perché Perché già si espone così? Non sono io Non sono io Perché si è esposto così? Where Nessuno risponde Nessuno risponde Parp where And me and green with me Me and green with me Che ya In verde sta V I was doing a task Non lo so I skip Green together with me Si continua a coprire le spalle Il blu e il green Il rosso Abbiamo detto che sta facendo le 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 task con noi Quindi il rosso Non lo voterei Però Il verde e il viola Un po' come i puzzano Qualcuno ha votato il rosso Attenzione Il blu ha votato il rosso Si espone il blu Ma in questo caso Schippiamo tutti E quindi non c'è alcun tipo di problema Di eliminazione Un impostore rimane Va bene Va bene Però con le task Siamo messi abbastanza bene Noi dobbiamo andare a fare Lo energy E skip Andiamo a fare lo skip O lo shield No lo skip Di qua Via 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 Che dobbiamo fare? Questo Questo non l'ho mai fatto signori Stai pensando Non l'ho mai fatta Che dobbiamo fare? Task complete Ma che Che Cosa Abbiamo appena fatto? Dobbiamo andare dall'altra parte Della nave Per l'energia Ok Ma l'impostore Non sta nemmeno sabotando niente Dai È una partita troppo tranquilla Ma davvero Cioè io già sto completando le task Signori Dai 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 I single left the game E questo l'abbiamo fatto Dobbiamo andare dall'altro Abbiamo allineato il primo motore Allineiamo anche il secondo E abbiamo completato le task Signori Dai così Ok Noi abbiamo completato il task Ed è morto un altro È morto il nero È morto il nero Hell è morto Vediamo se qualcuno risponde Questa cosa Where Uh Chi? Ma perché? Domanda a chi È morto il nero Dove? Dove è morto? Se il verde scrive i nomi Non sono io E ragazzi è palesemente lui I can clear Chan Io penso che Il channo sia pulito Io penso che il channo sia pulito E quindi Chi è rimasto? Il channo? Il rosso? Io Il verde è abbandonato Purpore Purpore forse Il viola ha chiamato il Sì Il viola ha chiamato Il Se non è il viola Signori Espaniamoci Espaniamoci Così diretti Senza se Senza ma Se non è il viola Io ho votato Diretto Rischio di 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 mettermi In In scacco Perché Dico Rischio di mettermi in scacco Perché se non è il viola E se gli altri non votano viola Io mi espongo in maniera Sbagliatissima Gli altri stanno votando Speriamo che non stiano dando dei voti E non stiano semplicemente schippando Manca il voto del blu Manca il voto del blu Che se non è anche il blu Era un po' a rischio Il blu Era un pochino a rischio Vediamo 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 cosa succede Vediamo cosa succede Signori Non sta votando il blu Blu vote Yeah Move Purpore together Non ho capito cosa Cosa ha scritto il blu Ma aspettiamo che voti Perché Se la sta prendendo con calma Si sta bevendo un tè al bar Non ci fa Passare avanti Dai vota Mancano 18 secondi Te li devi fuma a tutti Mi è in blu together Io e blu Tu sempre Skip Mi puzza Nice Bene Mi puzza Mi puzza Mi puzza questa cosa 5 secondi Vediamo Mamma mia Si è tirati tutti Sti secondi Vediamo Allora Io e il rosso Abbiamo votato il porpora Il porpora Ha votato il rosso E il cian ha votato il blu E volato via Il Buone Vosde Imposto Dai l'abbiamo preso Era veramente il porpora Grande così Vittoria Meno male che io Il rosso l'avevo capito Che era uno buono E siamo riusciti a fare Un'ottima cosa Bella vittoria Pulita Semplice E lineare Va bene ragazzoli Detto questo Io vi ringrazio Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Se volete altri video Di Among Us Fatemelo sapere Li porterò volentieri E niente Detto questo Ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo video Bella raga Ciao